Sentivano qualcuno che chiedeva aiuto, ma non vedevano nessuno. Solo quando hanno alzato la testa alcuni cittadini si sono accorti che la richiesta arrivava dall'alto, precisamente dal tetto di un'abitazione in sestiere d'orso duro. C'era un uomo che non riusciva più a scendere. Ma come era finito lassù alle 21.30? La spiegazione è arrivata poco dopo. La polizia infatti è intervenuta in zona per una lite accesa tra due fidanzati. L'uomo era stato avvisato da alcuni conoscenti che la sua compagna stava nell'appartamento con un'altra persona, quindi si sarebbe diretto a diratto fino a casa, sicuro di trovare la sua donna in compagnia di un altro. Una volta arrivato però ha visto che lei era da sola. Ne è nata comunque una lite che però anche grazie agli agenti si è conclusa nel migliore dei modi, con i due fidanzati che sono usciti per andare a fare una passeggiata. Qualche ora più tardi però sul posto c'è stato ancora fermento con l'arrivo dei vigili del fuoco. In realtà i sospetti del fidanzato erano fondati, solo che aveva controllato nei posti sbagliati. L'uomo sul tetto da ore, al freddo, era proprio l'amante della ragazza, di cui lei probabilmente nel frattempo si era dimenticata, e che è riuscito a scendere grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Forse ora ci penserà due volte prima di intraprendere una relazione con una donna già impegnata.